Entusiasmo ed affetto per un ministro che sembra essere stato adottato dal Salento. Prima tappa salentina per Matteo Salvini a Lecce per presentare il suo libro Controvento e non solo. Visto nel Salento tanti sono gli argomenti importanti che lei sta gestendo il porto turistico ma anche la problematica dei balneari. Lavoreremo fino all'ultimo istante per difendere il lavoro, l'investimento, il sudore e la fatica di chi su queste spiagge investe da decenni per evitare che venga messo all'asta non solo una spiaggia ma anche l'orgoglio di migliaia di famiglie. Al suo fianco la candidata sindaco Poli Bortone. Un candidato sindaco d'eccellenza Adriana Poli Bortone. Sono contento, sono fiducioso, c'è un ottimo clima, c'è una città che merita di più che non è curata anche nel quotidiano, nella manutenzione delle strade, delle aiuole, dei giardini problemi di viabilità, parcheggio, quindi è chiaro che se a qualcuno va bene la legge di oggi può continuare a votare a sinistra. Se qualcuno spera in qualcosa di più e meglio noi mettiamo a disposizione esperienza, competenza, onestà e poi anche idee sul futuro. E Roberto Marti che correrà sotto la sua bandiera al Parlamento europeo. Qual è il valore aggiunto che lei ha visto Roberto Marti rispetto ad altri? Persone in gamba che ama il suo territorio. E in Europa c'è bisogno di gente che ci stia, che ci vada e a difendere i territori. Noi viviamo di turismo, infrastrutture, abbiamo qui oggi il ministro Salvini che già qualcosa di importante l'ha fatta dopo 20 anni, è riuscito a sbloccare un'arteria fondamentale, la 275 nel Salento. Sta iniziando a programmare molto sui porti e sulle infrastrutture e lasciatemelo dire, dal 2018 ad oggi siamo stati l'unica forza di governo e non a mantenere la barra dritta sulla difesa assoluta da parte degli imprenditori turistici per mantenere le loro attività e per poterle offrire ai turisti ma anche agli stessi cittadini salentini.